A tutti quanti piace il nostro gioco, solo che il risultato ancora non è quello che lo meritiamo. Ma dobbiamo stare positivi, fiduciosi in tutto quello che facciamo e sono sicuro che arriverà anche il risultato. Niente scoramento. È il momento più che altro di piazzare la reazione d'orgoglio, quella tipica dei giocatori veri. Parla, rada, ma è come se parlassero gli uomini che di calcio ne hanno masticato parecchio in carriera. La Fidelis può e deve fare di più per provare a cancellare un neo che sta diventando noioso ed antipatico. Brindaria, il primo successo è per farlo, servono i gol, quelli che stanno mancando oltre alle vittorie in questo primo segmento di stagione. Dobbiamo continuare su questo aspetto, dobbiamo migliorare ognuno che sa che ha sbagliato in questa partita e che deve fare qualcosa in più per la prossima partita. Sappiamo che siamo ancora all'inizio, anche se sono già passate sette partite, ma siamo un nuovo gruppo, un nuovo allenatore, un allenatore che si fa sentire. Landria vuole fortemente rompere il ghiaccio, possibilmente già sabato pomeriggio, a partire dalle ore 16.30, al Granillo contro la Regina. Sarà una partita difficile, come tutti gli altri, perché anche loro sono in classifica non messe bene, ma come ho detto a noi non deve interessare come giocano loro, come sono loro, in che grado sono loro, è importante che noi miglioriamo le cose, quelle piccole che ne sono rimaste, di andare oltre che abbiamo fatto fino adesso. Io credo che siamo sulla giusta strada, si lavora bene e credo che dobbiamo continuare così. I giocatori veri non temono i fischi. Si sono sentiti parecchio sabato scorso al Degli Ulivi dopo l'opacco pareggio senza reti con la Paganese. I giocatori veri li sanno trasformare in applausi. La parola passa al prato di Reggio Calabria. Dobbiamo accettare, dobbiamo capire che si può fare qualcosa in più, dobbiamo credere che quelle fischi sono la spinta che ti dà la tifoseria, la reazione che deve vedere da noi e lo speriamo che la prossima partita lo facciamo più bene.